Un piano triennale delle opere pubbliche da oltre un miliardo di euro per 420 interventi con lavori di quest'anno già finanziati, PNRR su tutti o in fase avanzata di progettazione è stato provato a larga maggioranza dal Consiglio Comunale a Bari e per la prima volta ad inizio anno. Plauso bipartisan all'assessore Galasso e al lavoro dei vari uffici riusciti ad intercettare le enormi opportunità dei finanziamenti regionali e nazionali disponibili che tuttavia non ha evitato critiche dall'opposizione, voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle ad un piano orbo che non guarda le periferie, alla sicurezza nei parchi e fa vecchie promesse ad oggi non mantenute. Commento super partes di Dirella che con il consigliere di partito Paloscia si è assenuto su un piano ottimo ma difficilmente realizzabile senza ulteriore iniezione di personale. Tra gli interventi più importanti previsti il sistema BRT, Nord Verde, Costa Sud, Parco del Castello Svevo ed Ex Fibronit, Waterfront, Bari Vecchia. Ha provato dall'Aula anche il bilancio di previsione 2023-2025 che malgrado sconti gli aumenti energetici sugli appalti lascia invariate le tasse, anche la Tari, che però sarà ridiscussa ad aprile. 63 gli emendamenti alla manovra, 48 da Fratelli d'Italia, che per voce del capogruppo Ciaula sono stati alla fine tutti ritirati tranne due. Tra i 15 della maggioranza quello salva Amtab, a firma di Bronzini da quasi 6 milioni di euro per ripianare la situazione debitoria e finanziare i 20 mila abbonamenti super scontati a 20 euro. Amministrazione ancora una volta investe di croce rossina il commento di Ciaula verso una partecipata dall'efficienza discutibile.